Il concorso riparte, riparte con grande entusiasmo, vogliamo che tutte le nostre imprenditrici, anzi desideriamo che tutte le nostre imprenditrici, le imprenditrici della nostra provincia, iscritte a Terziario Donna e Non, perché è aperto veramente a tutte le imprenditrici questo concorso, desideriamo appunto che partecipano con le loro idee innovative, perché come ben sappiamo l'imprenditoria femminile è la più innovativa, per cui sicuramente anche quest'anno usciranno tantissime idee, vogliamo dare la possibilità, certo il premio non è un gran premio, però la visibilità sicuramente c'è su tutto il territorio e non solo, a tutte le nostre imprenditrici che hanno delle idee originali e diverse. Il premio è relativamente giovane, ma sono tante le donne imprenditrici e non solo della provincia che vi hanno partecipato. Sì, nel 2018 molte donne della nostra provincia hanno avuto questo premio, tra l'altro vorrei ricordare Emanuele Arossi appunto di Rossini TV, perché è grande imprenditrice, ha avuto una bellissima idea e soprattutto il coraggio di portarla avanti, perché non è una cosa semplice creare una televisione dal nulla. E oltre a Emanuele Arossi vorrei ricordare Sara Muratori, che si occupa di prodotti per le aziende, la casa e quant'altro, anche a queste a livello innovativo, Stella Scarpa per l'estetica e non solo, anche lei grande estetica innovativa e poi tante altre imprenditrici che adesso non sto a menzionare. Adile Cerisoli è ristoratrice della Palomba di Mondavio, nonché vicepresidente FIPE, è stata una delle protagoniste di questi anni del premio. Che esperienza è stata? Sì, è stato interessante e è servito anche per metterci alla prova e trovare un'idea nuova in un'attività che è già da 35 anni in campo, per cui è stato un motivo in più per trovare una novità. Noi abbiamo deciso nel nostro albergo e ristorante di inserire un punto vendita di prodotti tipici locali così per valorizzare i prodotti, specialmente delle aziende femminili. Quindi abbiamo portato nella nostra attività questo punto di prodotti specialmente di donne, miele, olio, cioccolato, per dare maggiore visibilità alle aziende femminili. Il concorso naturalmente è solo una delle tantissime attività di Terziario Donna? Certo, Terziario Donna è presente da molti anni sul territorio e dà sostegno alle imprenditrici. Una cosa molto importante che facciamo come Terziario Donna è organizzare corsi per la crescita delle imprese. E non solo diamo sostegno a tutte le imprese, da tutti i punti di vista, perché i nostri uffici sono a disposizione di tutte le imprenditrici iscritte per qualsiasi informazione. Poi adesso sappiamo bene che c'è questa fase di ricrescita, anzi speriamo che ci sia questa fase di ricrescita notevole con dei grandi finanziamenti per cui vi invitiamo a informarvi presso i nostri uffici e presso Terziario Donna per capire come potete gestire la vostra attività al meglio oppure creare nuove attività.